Le ulteriori consultazioni odierne con i gruppi consigliari e referenti di Partito Democratico e di Articolo 1 sono servite a precisare ulteriormente come, prima di dare il varo all'esecutivo che dovrà gestire il periodo di fine consigliatura, questo arco temporale di 18 mesi da oggi fino alle prossime elezioni comunali dicevo prima dell'esecutivo bisogna definire qual è l'abito cioè non si può pensare di avere un esecutivo senza sapere qual è l'abito che dovrà indossare e in questo caso il programma che ho chiesto in questi dieci giorni da quando ho iniziato la verifica che fosse condiviso da tutte le forze, quindi PD, Articolo 1 e Civicamente che non solo hanno manifestato la volontà di continuare e di completare il programma hanno anche dato il loro contributo per stilare questo vestito, questo programma oggi io ho voluto precisare che questo vestito su misura delle esigenze della città deve essere propedeutico al varo dell'esecutivo quindi ho chiesto che ci sia la sintesi fra le varie proposte programmatiche che debbono essere accompagnate anche dalla copertura economica ad esempio per ciò che riguarda il piano asfalti, il piano di manutenzione straordinaria e la cura del verde